La prima cosa è particolare, in un certo punto della canzone c'è da fare Voi potete darci una mano La prima cosa lo fa Adesso Allora, sti accordiamo? Allora, quando Claudio farà così? Siete pronti? Però vorrei sentire un applauso, signori, per piacere Siete pronti? 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti